Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Little Dumpay Oggi siamo ritornati ancora un'altra volta su Among Us con RIP Ciao ragazzi Ma prima di iniziare con il video vi invito come al solito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun contenuto Detto questo ci iniziamo Ok ragazzi adesso aspetteremo che la stanza sia folli come al solito e inizieremo la partita Ok ragazzi adesso siamo arrivati a 10 Starting 2, 1, 0 A dopo, i nostri microfoni saranno mutati come sempre E siamo KRIUBE Allora non gioco da una settimana da Among Us quindi devo un po' Riequilibrarmi, riabituarmi, una cosa così Red Red mi puzza di mouse Oddio Vabbè, brumotti, sono brumotti perché vanno nelle zone di spaccio Come tutti quanti i brumotti del mondo Andiamo in Electrical che è il posto più bello che c'è Electrical Faccio i miei cavi 1, 2, 3 e 4 Allora questo qua Che è il Lumine Giant Toast Rider non mi toccare So che sentisco Ghost Rider mi come le guardi Anche Rip mi come le guardi Allora abbiamo Qualcosa c'è Niente Appena in line Non c'è qualcosa Rip non ti permette di toccarmi Senti di loro che ti ammazzo Ok Dead Body Ghost Rider Io penso che sia al bianco Perché? Perché sia in Electrical che l'ho ucciso Sì Bisogna sapere dov'è perché in Electrical In Electrical c'era il rosso che si era fermato Anche il bianco Perché si sta seguendo Ok Sì Eh, si era fermato poi il rosso Poi era ritornato in giù E caso strano sta scendendo anche il Bob E sai E poi Bob ha trovato il corpo Io mi sono bianco Io penso il rosso Ma è lui Scusa Ci ha appena accusato È lui No È lui No Non è per farlo Perché lui non so poi che c'era anche il rosso Ma ci ha appena accusato C'è detto che ho visto il nero Ma non andare in Electrical So Black Rip No No Non mi hanno buttato fuori Quanto godiamo se No scherzo dai A dopo A dopo dai Sto Bob è molto sospetto Direi che possiamo tranquillamente seguirlo Bob Bob Che buzzo Una cosa che non posso dire Rip Che scompare come al solito Questo cos'è? Quello che vogliamo fare così? Ok Rip Fuzzi Cazzo 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 doom Let's go Do this Do 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 dружito Do 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 Doom Vabbè, vabbè. Tanto devo cercare di fare il meno rumore possibile con il mouse, perciò lo allontanerò un pochettino dal microfono. Pic, 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 pic. Spero che non si sente, vabbè, no? C'è altra cosa mi ha visto, che sono safe. Ok, task complete. Io, ok, dead body report del rosso. Posso chiedere poi un favore, Lollo? Se mi chiedi, ti dico solo questo, chiedimi. Ok, però comunque penso che sia il giallo. Io ti dico, Roger è rimasto fuori da Electrical. In Electrical ero io e Bob, e non mi sembra di aver incrociato nessun altro. Allora, I made a physical task, Pink saw me. Io c'ho Pink dalla mia parte che mi ha visto fare i cannoni. Perciò non dovrebbe... Lui dice che il bianco ha fatto vento davanti a lui. Ok. Io mi fido di Puma, è proprio simpatico. Non mi fido di Puma? No, mi hanno buttato qua di me. Bastardi, vendicami. Ti vendicherò? Avevo... Canto ti posso dire, avevo da fare lo scan. Ok. È amico delle guardie, allora, Puma. Puma amico delle guardie. Mmm, t-set white. Questa qua ha famo che c'è le foglie. Comunque meno male che non è RIP. Pumba amico delle guardie, naturalmente. I made this meeting. Vediamo cosa dice Pumba. Vote so white. Aspettiamo. Non so se è precisamente lui oppure no. Allora, no. Ok, vediamo un po' se è white. Intanto RIP se vuoi sbloccare, intanto è lo stesso. Penso che non mi senta perché sono mutato, ma... No, no, no. Ok, mi senti il Borobor. Sì, quando... Sì, vabbè, sì. Non hai avuto senso parlare. Ok, vediamo un po' se è white. Secondo te, cioè... A te... Ti ti hanno buttato fuori, perciò non hai visto... A me... Allora, il giallo già non mi sfida perché mi sono usato così a caso. O è il Bob, o Pumba, o il bianco. Tutti i miei hanno buttato. Se non è lui, è... è Bob. Qu'ha vinto? Sì! Da. Kai was the impostor. Etre ucciso per colpa di... Perché sono nero e non mi sta bene. E quindi, eh, è zona di spaccio. Dai. Prossima partita. Ok, iniziamo subito. A dopo. A dopo. Deriso, vado in posto. A monger. Ok, prima task, quine admin. Siamo sempre la stessa server, stesse persone. E perciò non ci sono problemi. Sempre la stessa persona. Le conosciamo mai cosa fanno e cosa non fanno. Ok, stop, fermo. Let's go too fast. Ok, la seconda questa volta. E hanno ucciso Rosa! Non ho visto bene che arrivava, però mi sembrava il blu. No, non so... Ti dico, non so chi era. Dove era? Non è di sicuro. Era in caffetteria. Caffetteria. What was doing in task at Cable? Dove era? Dilla allora. Sì, caffetteria. Caffetteria. Però... Non ho visto chi usciva. Alla fai schifo, intanto. Ti dico, mi sembrava che fosse arrivato un colore... Mi ricordo chi se era l'arancione... O il blu. O il blu. Di sicuro il rosso no. No, il rosso era con me, perciò non penso che sia lui. Vabbè, allora continuiamo. Dai, vediamo un po' che è. E lì c'è la tasta in shield, che è quella visibile. E neanche visibile questa qua. Se non sbagli tanto... Qua c'è qualcuno? Guys, qualcuno mi veda? Non mi vede nessuno. Tu, 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 tu. Non mi vede nessuno. Ok, basta. Mi sono andata a cantare. Mi vedo che è la mongalda. Non so neanche perché. Ok, c'è Kylie tranquilla. Che non fa niente. Che si fa gli affari suoi. Tutto shallow. Tutto brezzo. Ghost Rider. Che c'è? Che c'è Ghost Rider? Ghost Rider non di tutto. Deve andare da qualche parte in cui non vedete. Perché Ghost Rider è stato sofferto. Sospetto. Facciamo di questa tasta. The Fool's Tissue. Mi si mette. Allora, Ghost Rider... E' troppo strano. Io ti dico... Ero con l'Azzurro in Admin. E... Non... Che si dice? E' andato poi verso Caffetteria. Dark green... So kill him on cam. Ok, allora, Ghost Rider, dai. Io ti dico una cosa. Quando mi avvicino a te ti faccio tipo il doppio passo. Questo vuol dire che mi devi seguire. Ok, almeno... Può essere in posto, infatti. Allora, subito... Prossima partita. Luigi. Ok, ragazzi. A dopo. A dopo. E abbiamo cambiato un po' server. Almeno speriamo che... Diventiamo impostori. Andiamo un po'. Scramo completamente nero. JB. Shii. Siamo Crewmate. Che bello. Ok. C'è di più. Qui si viene andata. Ragazzi, guardatemi eh. Guardatemi eh. Guardatemi eh. Guardatemi che sono bello. Sto facendo le tasche. C'è il mouse che suona, come al solito. Ok. Yellow Sister. Come dovete ho detto bruttissimo in questo modo. È save. Non può essere. Nicole. Pagani. Nicola adesso. Paddy... Non è tanto intelligente. Ok. Pagano qua. Il ninja. DD97412. Paddy non è tanto intelligente. Allora. Nav. Poi. Opla. Due. Facciamo come i Vecchi. Dicono. Gli anziani signori. Scusate. Vecchi è un comportamento da. Bambino stupido. Cavo rosso. Cavo giallo. Allora. Mi hanno detto che era coso. Chi era quello? Ma no. Io non ricordo più. Boi. Sicuramente. Comunque. E allora. Prima il video. Oh no. 2021 non può essere. Dai. Allora. Rosa. E rosso. Vediamo un po' qua cosa abbiamo. Non abbiamo niente. No. Abbiamo una roba in Mad Bay. Vabbè. Speriamo che sia lo scandal. Almeno. Allora. Almeno anche DD ci crede. Dead Body. Allora. Non ho visto una task visiva. Esatto. Il rosso è sempre stato con me. Retaked. Visible task. Ok. Hanno appena scritto. Paddy. Che non ha feicato. Ma. Ha detto che. Ok. So. Vedo. Poverido. I had a task. In the room. In the shield. Back. In the shield. There. There is only. All this. All this. All this. E come si chiama? Io. Ripa. Speriamo che non sia perdi. Cioè sì. Speriamo che. A dopo. Che sia perdi. A dopo. Ok. Niente a dopo. Ripa. Ce l'ho fatto. Sì. Allora ragazzi. Facciamo un'altra partita. Sendo che. È venuta molto corta questa. Ultima partita. Ok ragazzi. 3. 2. 1. A dopo. Ripa. Vediamo un po'. Crewmate. E ragazzi. Sì. Mi sono stato in verde. Perché adesso sono un lieno. Un lieno. Amico delle guardie. Non lo so. più che. Seppse chiama. Viste prodotto. Mi sono v Cuban. Diedボディ report. Adesso che lo li ho chiari. Rip. E üh. Perché mi seguivi? Perché è da mezz'ora che tento di farmi seguire da te, però te non lo capisci. Devo ricordarmi sempre che il tuo doppio passo vuol dire che devo seguirti. Adesso me lo ricordo. Allora, io sono offstate perché mi hai visto fare la cosa della luce, no? Ti giuro, quello della luce non ti ho visto. Ti ho visto da quando sei andato a pigliare la botte. Poi ci siamo persi quando io ero entrato in comunicazione. Ok, facciamo la stessa compro, vai. Sperando che non sia un tanello. Se no, titolo del video... Oh, a tuo rischio e pericolo. È anche il mio rischio. Ecco, come titolo potrei mettere a tuo rischio e pericolo, se sei l'intosto. A mio rischio e pericolo. Eh, se lo sai. Eh, che lo so, lo so. Allora, devo ancora votare io. Ho fatto solo il fatto. Vota VIP, se no ti accusano. Oh. Tu mi distraevi al votare. Perché Teddy mi ha votato? Teddy ha votato Brumotti? Come si permette? A me il bianco mi ha votato. A dopo. A dopo? Se io devo... Quani imposto hai messo. Allora, devo seguire... Allora... il verde scuro sospetti non è che non abbia tanti però il mad bay era venuto e c'era rimasto poi è arrivato anche il viola il verde scuro poteva tranquillamente uccidersi essendo che ti avevo visto che è arrivato e quindi potrà uccidersi e darà colpa a me quindi non dico che non è lui però sospetto un pochino più a me mi sospetto o il rosso o il marrone si oppure te no tu ho visto che hai fatto lo scan quindi hai vuoi anche i cannoni da fare quindi no no tranquillo mi è bastato seguirti quella volta perché l'hanno votato parità mi so tre tre ma non votare il viola perché lui magari no ma vediamola eh a dopo di ok ragazzi è rosso l'ho visto è rosso dove l'hai visto l'ho visto perché era in security nessuno dei due e guardava le telecamere poi mi sono allontanato e poi sono tornato indietro ho detto perché nessuno ne guarda vado avanti e poi torno indietro ho visto che l'ho ucciso quindi ragazzi molto probabilmente l'ultima partita conquistiamo anche questa volta una bellissima vittoria se non è rippa naturalmente ai sì ok grazie che mi hai votato cesto di uova in testa was the imposter ok ragazzi adesso vi da un po victory victory ya boi ya boi saluti finali ok ragazzi il video sui cucurio è qua spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando se vi è piaciuto mettete like se volete che giochiamo insieme a voi scrivetelo qua nei commenti giocheremo io rip e voi altrimenti e niente le cose importanti da già detto all'inizio rip saluta ciao e noi ci vediamo in un prossimo video ciao raga ciao 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 ciao